Prego Leonardo, questa conosciutissima cantina... Io infatti non capisco ma mi sembra che a te evochi qualcosa il nome Manetti, comunque siamo a Cantine Manetti con Andrea Manetti al quale ovviamente la domanda è d'obbligo, non è difficile da capire, è molto semplice, cioè a dire Andrea Manetti, cosa è per lei il Chianti? O meglio, cosa vorrebbe che fosse per chi lo va a comprare? Perché per me il Chianti è il vino, il vino più famoso del mondo, il vino dove vai nel mondo con i quali ti conoscono, cosa vorrei che fosse il Chianti? Il Chianti vorrei che fosse il vino rimanendo un vino di qualità, il vino di tutti i giorni, il vino da persi come si faceva una volta, giorno per giorno sulla tavola di tutto. E questo è quello che dobbiamo pensare, ricordiamoci che se tutti i giorni veramente per tutti i produttori di Chianti è quello da bere, siamo a cavallo!